Tagliolino guanciale, fiori di zucca e pecorino. Te lo devo di? Tagliamo a listarelle un po' di guanciale. Fiamma bassa bassa e lo facciamo andare nel suo grasso. Puliamo i nostri fiori. Guanciale quasi pronto, giù un tagliolino. Buona parte del guanciale la teniamo da parte. Riaccendiamo il fuoco, mestolo d'acqua. Se non fa questo, questo rumore, lascia aperto. Giù la pasta gli facciamo prendere il sapore del guanciale. A due minuti dalla fine aggiungiamo i fiori. Spegniamo il fuoco, vedete? Lasciamo un minimo d'acqua. Pioggia di pecorino romano e andiamo a mantecare. Bel nido, giù nel piatto, giù tutta la crema. Pochissimo pecorino e per chiudere, guanciale croccante. Vai!